Ciao a tutti! Oggi facciamo dei semplici biscotti al burro con marmellata o Nutella. Vediamo gli ingredienti che ci occorrono. 350 grammi di farina, 200 grammi di zucchero a velo, 200 grammi di burro, 3 uova, 150 grammi di amido di mais, mezzo cucchiaino di lievito per i dolci e poi a piacere la quantità che si vuole Nutella e marmellata. Iniziamo a mischiare tutte le polveri, farina, amido, zucchero a velo e mezzo cucchiaio di lievito. Aggiungiamo il burro. Adesso mettiamo anche le uova. Aggiungiamo il burro. Adesso lo mettiamo sul piano di lavoro e lo stendiamo un po' col mattarello. Aggiungiamo il burro. E' il burro. C'è un buco. Ma che? Lo ho? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti